Al via la nona edizione di Vitigno Italia, il salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani. Nella suggestiva cornice di Castel dell'Ovo a Napoli, 200 aziende hanno esposto le migliori produzioni italiane, con degustazione libere e guidate, che hanno coinvolto i numerosi visitatori appassionati del buon bere. Quest'anno Vitigno Italia ha aperto ai marchi della gastronomia, con il pastificio di Martino di Gragnano e del suo pasta bar, ed i migliori formaggi e salumi nazionali. Tradizionale invece l'abbinamento del vino e dei distillati con il sigaro italiano. Diverse ed interessanti le verticali sui prodotti, tra le quali segnaliamo la degustazione guidata dei prodotti del Vesuvio, con i vini delle cantine Olivella ed i boccaccelli dello chef contadino Pietro Parisi. Tutto questo è Vitigno Italia, un sapiente mix di vini e prodotti ed un grande evento per la città di Napoli. Siamo contenti di ospitare qui a Napoli Vitigno Italia, in uno dei luoghi più prestigiosi della nostra città, Castel dell'Ovo, tantissime persone per parlare di vino, della ricchezza della nostra nazione, le tradizioni della terra, quindi un messaggio forte anche di riappropriazione dei luoghi della nostra città attraverso la sponsorizzazione di quella che è la ricchezza naturale della nostra terra. In questo caso il vino e siamo convinti che ci sarà una partecipazione di cittadini molto importante.